Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 1 Aurelia, dove si segnalano forti rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente tra Calafuria e Quercianella, nel comune di Livorno. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla FIPILI in direzione Firenze, personale sulla strada per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra i chilometri 24 e 724, tra Empoli ed Empoli Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!